Nonostante il tempo incerto di questo fine settimana, la manifestazione Rubino Rotte del Vino ha riconfermato il suo successo. Turisti, cittadini che non solo hanno ammirato le bellezze di Scicli, ma si sono divertiti a gustare i vini siciliani. Vini prodotti nel territorio di Scicli, Ispica, Noto, fino ad arrivare a Marsala. Un viaggio della Sicilia tra le cantine, assaggiando vini classici come il Nero d'Avola e anche vini particolari come i vini vegani. L'associazione SEM, Spazi Espressivi Monumentali per il terzo anno consecutivo, ha organizzato un evento di grande portata. Quest'anno, oltre a coinvolgere le aziende vinicole siciliane, ha dato spazio anche all'Istituto Agrario Locale, a cui è stata dedicata un'intera sala allestita dai ragazzi e dove hanno proposto dei prodotti di loro produzione. Allora, essere arrivati alla terza edizione è sicuramente un grande risultato, perché comunque la prima è stata un'esperienza, un tentativo, la seconda è andata migliorando, la terza è stata molto più ragionata. Siamo arrivati anche all'obiettivo che avevamo sin dalla prima edizione, ovvero di creare un evento diffuso nel centro storico. Mentre gli altri anni abbiamo concentrato le cantine in dei palazzi un po' più grandi, come il convento dei Cappuccini di Villapenna oppure come il convento della Croce l'anno precedente. È stata comunque un'esperienza molto interessante, abbiamo avuto intanto dei buoni feedback da parte delle cantine, che molti ci hanno anche richiesto di partecipare, ci hanno invitato a proporre anche più eventi di questo genere qui a Scicli e anche un buon risconto da parte degli utenti, sia di Scicli che di fuori. Rubino Rotte del Vino non è stato solo vino, ma anche arte, musica e spettacolo. Grazie a tutti.